Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la risoluzione sulle criticità del settore conciario con particolare riferimento al distretto di Santa Croce sull'Arno e Ponta Egola. Una risoluzione che chiede due cose, la costituzione a livello regionale di un tavolo sulla crisi del settore moda che nel frattempo il Presidente Gianni ha già attivato con prontezza e solerzia e chiede anche al Governo ovviamente di intervenire perché fra le misure che noi abbiamo individuato, alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del Governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive quindi ci stanno competenze della Regione ma ci stanno anche competenze del Governo. Tutto questo perché? Perché il settore, il comparto conciario che è inserito nel più ampio comparto appunto della moda sta soffrendo in modo particolare per il fatto che i brand del lusso, le grandi case di moda per le quali lavorano gran parte delle aziende del nostro distretto conciario di Santa Croce hanno rallentato le vendite. Quello che altrove è un rifiuto speciale da dove smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare e quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dove smaltire quando passa da Santa Croce o da Punta Ego il nostro distretto conciario diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano che ha la capacità di vincere nel mondo il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie che hanno giustamente colpito quel distretto Sì, favorevole per un tavolo su tutto il distretto moda che parte sicuramente da delle audizioni avute in seconda commissione di cui faccio parte, di una denuncia fatta da tutto il distretto conciario del comprensorio del cuoio un tema delicato, un periodo difficile per la crisi del lusso, un periodo difficile per l'export che ha avuto un calo di più del 20% dovuto a una crisi del lusso in generale dovuto anche a una crisi energetica, alle guerre che si stanno succedendo in Medio Oriente, in Europa e quindi questo ha portato anche a una denuncia da parte di quel settore un settore importantissimo per la nostra regione che ha tantissime aziende e contoterzisti che lavorano all'interno di quel distretto il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della giunta regionale ma anche all'attenzione del governo centrale perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà La risoluzione ha ricevuto i 27 voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Lega e Gruppo Misto mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro La problematica della crisi di alcuni settori tra cui la moda e il lusso esiste e non è soltanto della Toscana è di tutta Italia, anche internazionale direi e quindi di questo sarebbe bene che magari il Ministero del Made in Italy fornisse degli strumenti finanziari e normativi per cercare di dare una mano a questo comparto che sicuramente produce ricchezza ma c'è un aspetto qui in Regione Toscana che non può essere ignorato insieme alla presentazione di questa risoluzione che lo stesso settore per il quale oggi siamo andati a votare una mozione è il medesimo all'interno del quale territorio sono stati causati uno dei più grandi scandali a livello ambientale che la Toscana ricordi che è quello legato al CEU, che è quello legato allo smaltimento illecito dei rifiuti che ha coinvolto le istituzioni, che ha coinvolto un sistema anche di rapporti fiduciari tra cittadino e politica che non possiamo ignorare. Tutto questo ci fa dire che sicuramente chiunque deve avere la sua garanzia così come è prevista costituzionalmente l'imprenditoria sana deve essere sostenuta, deve essere tutelata e così tutti i lavoratori che sono incolpevoli di ciò che sta avvenendo in Toscana ma anche della crisi finanziaria. Però riprendendo un'affermazione che è stata fatta in Consiglio c'è una cosa che va detta. Sì, le fette di mercato che si perdono poi possono rappresentare un danno economico, ma le fette di mercato, di questi mercati così volubili, si perdono e si recuperano. Le fette di ambiente, di territorio e di salute delle persone che ancora oggi, poche settimane fa, sono venute a conoscenza dell'esistenza di altri siti in cui è stato sversato il CEU e che non sapranno chi li rimborserà, se ci saranno dei finanziamenti per loro, se lo dovrà fare il Comune o i privati. Ecco, tutte queste persone, tutto questo settore non c'è adesso chi esprime una mozione per loro o chi cerca di ripagarli. A proposito dell'inchiesta giudiziaria sul CEU, però, Fratelli d'Italia e Lega chiariscono l'inchiesta che non si deve spegnere, un'attenzione da parte della politica che deve essere sempre alta per la tutela ambientale, per la salute e per tutti quei cittadini che ancora oggi aspettano delle risposte. Però sono due binari paralleli che però in questo momento non si devono incrociare perché altrettanto è l'importanza per quelle migliaia e migliaia di lavoratori che lavorano in tutto il settore moda, non soltanto a Santa Croce ma anche a Ponta Egola, a Castelfranco, a Fucecchio, a Empoli, tutto il distretto Tessere di Prato. Quindi è un distretto molto più ampio che ha bisogno di attenzione. Acqua e Contenziosi, cresce il ricorso dei cittadini toscani alla conciliazione extragiudiziale soprattutto per fatture e addebiti per perdite occulte a valle del contatore. Lo rendono noto i tre soggetti a disposizione degli utenti, Difesa Civica Toscana, Autorità Idrica Toscana e Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che a Palazzo del Pegaso hanno organizzato una tavola rotonda per presentare i dati dell'attività svolta nel 2023. È un'attività per noi molto importante e servirà oggi per fare il punto sulla situazione, quali sono i dati, il procedimento. Il Difensore Civico attraverso i suoi funzionari svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il servizio idrico toscano e proprio ieri in occasione della illustrazione della relazione annuale abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno confermando il nostro impegno nei confronti di Haiti, anche i numeri sono soddisfacenti perché su 153 richieste di conciliazione, 117 sono state quelle svolte dai funzionari del Difensore Civico e quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Diciamo si illustra quella che è un'attività che ormai è entrata a pieno regime che è quella del sistema della conciliazione con un organismo appositamente creato in Toscana gestito dall'autorità etica toscana insieme al Difensore Civico e ai gestori del servizio idrico integrato e che consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione di servizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori di poter avvalersi di questo strumento che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante, soprattutto a tutela degli utenti che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche e che in genere si possono risolvere con un approccio più conciliativo. Un voto unanime istituisce la commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali in Toscana di ottobre e novembre scorsi, rappresentati tutti i gruppi politici ad eccezione del Movimento 5 Stelle, gruppo misto, che non hanno voluto farne parti ai sensi del regolamento interno. Ogni commissario è dotato di un voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza. Presidente eletta la consigliera Elisa Tozzi. Innanzitutto voglio ringraziare i miei colleghi perché comunque è un'attestazione di fiducia sulla mia persona che davvero mi rende orgogliosa ma da un lato mi responsabilizza anche molto. Sappiamo che il tema dell'alluvione è un tema centrale oggi, non solo del dibattito politico, l'abbiamo visto in questi giorni quando continua una polemica che viene messa in piedi quasi quotidianamente tra il Governo e la Regione Toscana, il Presidente della Regione che è anche commissario straordinario. Ecco, io credo che con oggi davvero si sancisca la fine, spero, del tempo delle polemiche e l'inizio del tempo in cui veramente si accertano i fatti, le responsabilità e soprattutto si capisce anche cos'è che è mancato in questi decenni alla Toscana perché è chiaro che la questione della prevenzione del rischio idrogeologico è centrale, la questione della tutela del territorio è centrale, oltre appunto a capire quei giorni che cosa non ha funzionato eventualmente nella macchina dei soccorsi, il nostro sistema di protezione civile, se ci sono delle cose da correggere, il ruolo dei consorzi di bonifica, quindi un insieme diciamo di situazioni che sicuramente meriteranno quell'approfondimento oggettivo che è l'obiettivo principale di questa Commissione. Eletti anche i vicepresidenti, quali saranno le priorità? Allora inizieremo già la prossima settimana a stabilire un calendario, sicuramente una delle priorità è capire, anche alla luce delle polemiche di questi giorni, il lavoro della struttura commissariale, anche nella fase della ricostruzione, questo credo che sia prioritario. Naturalmente, come ho detto prima, a questo si accompagna anche un'indagine approfondita sullo stato dell'arte del territorio, su come diciamo si è potuti arrivare, se ci sono delle cause naturalmente, al di là di quelle che sono poi gli eventi meteorologici particolarmente diciamo forti che si possono e si sono abbattuti su questa regione. Però ecco, per noi partire dalla struttura commissariale e dal lavoro che è stato fatto anche sulle risorse. Ci sono ancora tanti cittadini che oggi aspettano di avere delle risposte. È chiaro che la parte dei ristori economici assume un ruolo centrale, ma anche qui dobbiamo anche capire dove si riesce ad arrivare, chi è stato effettivamente ristorato, perché è chiaro che un'attività che ha subito danni ingenti, non solo materiali, ma anche di un fermo nella produzione, sono danni che sono anche inquantificabili. Quindi occorre, secondo me, fare un focus su questi aspetti. Credo che la Commissione, fortemente voluta da tutto il centro-destra, sia uno strumento utile a attenzionare una vicenda sulla quale abbiamo avuto a più riprese un dibattito anche in Consiglio regionale negli ultimi mesi del 2023, ma anche all'inizio del 2024, particolarmente acceso perché ci sono ovviamente anche visioni differenti. Chiarezza che chiaramente sarà concentrata in particolar modo sull'area fiorentina, che è stata sicuramente quella più colpita o comunque del centro della Toscana, ma che ho a cuore di sottolineare anche in Bersiglia e sulla costa i danni si sono sentiti e le richieste sono tante. Tant'è vero che l'istruzione della Commissione è allargata alle vicende non solo del 2 di novembre, ma anche quelle dal 29 ottobre al 1 di novembre, che fu io stesso a segnalare, in particolar modo proprio sulla costa. Il Partito Democratico storicamente si è sempre reso assolutamente disponibile all'apertura, ma soprattutto al buon funzionamento delle commissioni di inchiesta. Io personalmente nella precedente legislatura ho fatto parte, ho portato avanti il lavoro da Vice Presidente della Commissione di inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro. Il Partito Democratico ha sicuramente questa opportunità di portare un contributo ai lavori di una commissione che ovviamente non abbiamo dubbi si svolgeranno in maniera ordinata, approfondita e corretta e dunque sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. È una commissione importante, una commissione alla quale mi pregio di appartenere perché serve a fare chiarezza su quanto è accaduto e soprattutto su quanto è stato fatto in modo da mettere in evidenza che l'operato della Regione e del Governatore sono stati inicepibili. Io credo che alla fine del percorso tutto questo emergerà. Abbiamo cercato di mettere insieme i due periodi che sostanzialmente contraddistinguono la mia attività, cioè il periodo più figurativo che risale a qualche anno fa, il periodo invece più materico in cui poi la realtà si va a disperdere quasi in una serie di colori, forme piuttosto che materie, però abbiamo voluto fare un qualcosa di in qualche maniera integrato, cioè non una sala tutto figurativo, non una sala tutto materico, ma in modo da dare anche a chi viene poi a visitare, a vedere una, diciamo, un qualcosa che non stanca, che non è ripetitivo. Frammenti d'animo è la mostra allestita nello spazio Carlo Azzeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso, esposte le opere di Leonardo Cherubini, architetto con la passione per l'arte di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo. A curare la mostra la critica d'arte Maria Giovanna Cutini. Ogni quadro poi è oggetto di rifacimento, parla di prassi di rifacimento. Un quadro non è mai un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Chi è Leonardo Cherubini? Leonardo Cherubini non è un artista né figurativo né astratto. Io le ho ritenuto, diciamo, un artista talvolta diventa informale, talvolta diventa materico, tanto che, diciamo, la sua arte può essere suddivisa in tre fasi particolari. La realtà, i frammenti e la materia. Al taglio del nastro anche il vicepresidente del Consiglio regionale. E dietro il suo lavoro c'è indubbiamente uno studio, uno studio che porta poi a giustificare il titolo della stessa mostra, frammenti d'animo. Ecco, che cosa notiamo in Leonardo Cherubini? Uno studio che riprende naturalmente dalla sua professione di architetto, dove nello sfondo vediamo sicuramente apparire degli elementi architettonici. Ma poi arriviamo alla scomposizione della figura che diventa enigmatica, diventa particolarmente suggestiva. E questo cattura il nostro pensiero, ci invita a una riflessione, a una condivisione delle sensazioni e dei pensieri dell'artista. Grazie.